Dal 29 ottobre al 1 novembre, dopo il successo di Nocciolando in Alta Langa, l'ente fiera della nocciola e i prodotti tipici dell'Alta Langa, in collaborazione con l'ente fiera del tartufo, è stata protagonista del gemellaggio tra tartufo e nocciola, due grandi e prestigiosi prodotti delle colline di Langa e Roero. La nocciola e i prodotti tipici dell'Alta Langa sono stati protagonisti in un salotto del gusto e dei profumi in piazza Duomo ad Alba. Il percorso ha fatto conoscere meglio le caratteristiche uniche e la qualità gustativa della nocciola Piemonte IGP, nonché la resa nelle varie trasformazioni e applicazioni culinarie, anche in un invitante e originale abbinamento con i prodotti d'eccellenza del territorio dell'Alta Langa. La fiera è stata inaugurata da Enrico Costa, dall'assessore regionale al turismo Cirio, dal sindaco di Alba Marello e dal presidente dell'ente fiera De Giacomi, che hanno avuto parole di elogio per l'ente fiera e per la confraternita. Molti confratelli si sono alternati nei quattro giorni di fiera, ma una particolare nota di merito va a Vanna Burdese, che ha preparato migliaia di piatti contenenti i prodotti tipici a base di nocciola, e a Claudio Sonnati e Ginetto Pellerino, che hanno presieduto alcune degustazioni come relatori, riscuotendo grande successo per le relazioni ricche di nozioni esposte in modo pulito e lineare. Anche il gran maestro Luigi Paleari fuori sede per un evento sovrapposto, lunedì e martedì non è voluto mancare un evento così importante. Grande è stata l'affluenza di pubblico e importanti le basi gettate per future collaborazioni della confraternita con diversi enti e istituzioni. Una visita anche di un'inviata del New York Times, alla quale è stata consegnata una copia dell'ultimo DVD prodotto per la confraternita dalla video Berrino di Brà, dal titolo Corte Miglia e Nocciola. Il video per l'occasione è stato proiettato per tutti i quattro giorni e ha riscosso un notevole successo, sia per i contenuti che per la qualità delle immagini in alta definizione.